L'unione fa la forza. Ciao, sono Giorgio Paglini e sono un grande appassionato di battaglie artigianali, con qualche artigiano collaboro del Distinto Nam. Chiamai tanto tempo fa Luigi e Samuele con i dori, creatori delle prime dore orizzontali del marchio Mosaico. La produzione è nel 94, ma questi prototipi sono fino al 92 e lo testimonia Daniele Di Gregorio che dal fine 92 fino al 97, quando i tour giravano, fece l'European Tour di Paolo Conte proprio con questa mosaica. Sono molto contento oggi perché c'è un tradunione, quindi si creerà la prima linea Stintra Mosaico. Sono Samuele Polidori e con piacere dico che la Mosaico sta riaprendo i battenti. Stiamo collaborando per far ripartire quello che è il marchio storico delle batterie dogo orizzontali. Vi voglio raccontare brevemente quella che è la storia della Mosaico. La Mosaico è nata nel 94, grazie a mio padre Polidori Luigi e a Bradimiro Campanelli che è stato poi il designer e progettista di tutto. Insieme hanno pensato di creare qualcosa di nuovo. Seguiteci che presto ci saranno delle novità. Nella costruzione a doge orizzontali non vi è nessun tipo di incastro. Le doghe vengono incollate in senso circolare. Con questo tipo di costruzione nel fusto si eliminano le tensioni. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! a completare il tutto ci sono le parti meccaniche che sono completamente in ottona cerchi blocchetti e clips con la meccanica multi step a tre posizioni della trick con la meccanica Grazie a tutti Giorgio Paini, da sempre affascinato all'artigianato, Mosaico, il primo costruttore italiano di fusti e doghe orizzontali, il tutto assemblato con l'hardware in ottone di steel drum, danno vita a questa linea di rullanti 100% made in Italy. Grazie a tutti